E adesso Vittorio Sgarbi leggerà le motivazioni per il suo premio. Per restituirgli, e non è mai abbastanza, tutto quello che aveva ricevuto da lui. Per questo dopo la laurea con grande impegno ha lavorato in Francia e poi al Senato della Repubblica e in alcuni ministeri. Diventata professore di storia dell'economia all'università e ora direttore delle gallerie estensi a Modena, Sassuola e Ferrara. Per il suo merito e il suo riconosciuto valore è stata insegnita dal Presidente della Repubblica Mattarella della Unificenza del Cavalieri al Merito, dal Presidente della Repubblica francese Macron, della Unificenza di Chevalier della Regione d'Honneur, dal Ministro della Cultura francese, della Unificenza di Chevalier d'Esalte Elettra, dal Presidente della Repubblica bulgara della Medal of Honor. Ma per sé, per il suo amore per la ricerca e la letteratura, e per chi la legge per scoprire oltre i diritti le virtù delle donne, ha scritto, narratrice e biografa, storie di donne illustri, rivelandone, oltre la notorietà e la grandezza, l'umanità, la forza e il carattere. Isabella e Lucrezia, Caterina Remedici, Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere, la regina e l'imperatrice, Maria Antonietta e Maria Teresa, due destini tra l'assolutismo e il dramma della rivoluzione. Storia, politica, sentimenti, drammi, competizioni. In quella storia c'è la vita e per lei l'esempio continuare la sua attività nobile e operosa. Lo ringrazio per le stupende parole e soprattutto per aver ricordato mio padre. Poi ringrazio naturalmente la Fondazione Pio Alferano e Vergine Ippolito, il Presidente Santino Carta. Io credo che la storia e la cultura siano l'unico collante, l'infrastruttura immateriale per eccellenza che tiene insieme nei tempi di crisi e invece nei tempi migliori. La cultura è un fluire, quindi la necessità, a mio avviso, ed è per questo che poi da avvocato mi sono specializzata in biografie, la necessità di raccontare, raccontare la storia e raccontare le storie. Io da poco ho l'onore e il privilegio di dirigere le gallerie estensi. Vittorio sa bene quanto la storia degli Este, la seconda dinastia per longevità e forse permettetemi di dire la prima, una delle prime per genio, ha fatto la storia d'Italia. Gli estensi che partono da Ferrara ma che comunque hanno Modena e che hanno Reggio Emilia e che hanno esponenti straordinari. Isabella d'Este che nel Cinquecento, nata a Ferrara e poi divenuta per matrimonio a Marchesa di Mantova, che nel Cinquecento usa un motto, adotta un motto che è Nexpe Necmetu, senza paura e senza speranza, che poi è un antico motto, un modo di affrontare la vita. Ecco, è un motto di una modernità incredibile. Io scrivo su tutte le settimane, come ricordava Vittorio, una pagina sulle donne nella storia e nel mito, quindi dalle grandi donne della mitologia a quelle attuali. Ebbene, pensate che filo rosso straordinario e che privilegio è poter restituire la voce, perché scrivere, raccontare è anche ridare la voce a chi non la può tirar fuori. Stasera io ne ho poca, però in generale un po' di più. E concludo dicendo, ancora ringraziandovi per questo premio meraviglioso e soprattutto per le parole di Vittorio, c'è una frase di un libro che io amo molto, che è Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar, e che dice che costruire biblioteche è come costruire granai per un inverno dello spirito che da molti indizi Adriano vedeva venire. Ecco, la cultura, le biblioteche, i libri, la bellezza, l'arte sono tutti granai per gli inverni dello spirito e per le fasi migliori. Ma io credo che mai, come in questa fase, noi dobbiamo attingere a essi. Grazie. Grazie Alessandra Necci. Ecco il premio. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Chiedo scusa, ringrazio la bravissima modellatrice, mi perdoni. Ma no, ma non si preoccupi. Grazie. Grazie. Grazie.